Prima di spiegarvi, ma il mio intento è di costruire con voi, con chi si occupa di scuole e di educazione, una nuova modalità, una nuova forma mente, capire insieme, intelligere insieme, non un aggiornamento meccanico in cui viviamo informazioni che vi ingozzano di informazioni su informazioni, capire insieme. Quindi la domanda è, siamo la stessa persona da quel primo ricordo dell'esistere a oggi e poi non mi libero di me, né mi libero dei miei dolori, né mi libero delle mie solitudini, nel mio desiderio di amore, nel mio libero delle mie speranze, cioè noi siamo colmi di noi.